L'incontro che si è svolto al Salone del Libro il 10 maggio nello stand della città metropolitana ha permesso di avviare un confronto sul tema della digitalizzazione del patrimonio delle biblioteche specialistiche. Gli interventi di alcuni esperti sono stati moderati da Walter Canavesio della Biblioteca Grosso. L'incontro in cui sono stati illustrati i progetti Byterfly di Ires-CNR e Lincoln Open Data del Cobis si è chiuso con una domanda lasciata volutamente senza risposta. A fianco del pur inevitabile processo di digitalizzazione, come può la biblioteca intesa come luogo fisico modificarsi e adattarsi ai nuovi sistemi di fruizione? Anche la Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte, Giuseppe Grosso, gestita da più di 50 anni a Palazzo Cisterna dalla provincia di Torino e poi dalla città metropolitana, ha in progetto di avviare un intervento di digitalizzazione di parte del suo patrimonio librario antico. E' ormai opinione largamente diffusa tra gli addetti ai lavori, infatti, che gran parte del futuro delle biblioteche sia rappresentato dalla digitalizzazione dei testi. In particolare, una biblioteca come la Giuseppe Grosso si gioverebbe molto di questa scelta. Si tratta di una biblioteca storica, ricca di molti volumi rari e preziosi, aperta alla consultazione ma non al prestito. La digitalizzazione consentirebbe facilità di accesso e agevolerebbe la tutela dei testi conservati. Il progetto Byterfly è un progetto che cura la conservazione e presentazione di opere digitali. Ovvero, abbiamo curato e seguiamo ormai da anni tutto il processo di post-conservazione a seguito della digitalizzazione di libri, documenti. La nostra architettura, un'architettura open source e open access, permette a qualsiasi persona di poter accedere a questi documenti in formato full text, quindi poter fare la ricerca sulle singole parole contenute nei volumi, poterli accedere online, leggendoli online, poterseli scaricare. I link open data sono uno strumento che serve per collegare i dati catalografici e permette all'utente di avere più informazioni, più dati e non soltanto un ristretto portale come può essere quello dell'università, quello dell'ICU. E oltretutto permette anche collegamenti con le biblioteche internazionali che già pubblicano in link open data.